Quindi la domanda adesso ovviamente sorge spontanea, dove devo portare questo traffico? Sì, ok, bello, figo, pago anche, devo capire dove devo portare questo traffico. Sulle opt-in page, non andremo a vedere insieme a me che cos'è un'opt-in page, ci sarà poi il tempo sia nel pomeriggio e soprattutto anche domani di capire bene con Mick che cos'è un'opt-in page, come lavora un'opt-in page, eccetera. Però l'importante è che adesso abbiate un quadro, ok, vi ho lanciato lì il sasso e direi, ehi, questa è una cosa nuova che andremo a vedere. Dove dovete capire che l'obiettivo della opt-in page è solo uno, ed è importantissimo quando si parla di traffico. Ovvero, convertire il traffico che puoi controllare in traffico che possiedi. Avete capito questo passaggio? Mi seguite? Ok? Abbiamo visto inizialmente il traffico che possiedo, quindi magari io ho già delle liste, ho già dei followers, eccetera, eccetera. E abbiamo visto il traffico che invece posso controllare, quindi io pago in cambio di traffico e posso portarlo dove voglio, in qualsiasi momento, e fargli compiere una determinata azione. L'azione più classica, abbiamo visto un'opt-in page, all'interno dell'opt-in page, l'obiettivo è far diventare quel traffico che io ho comprato con i miei soldi, farlo diventare mio. Ecco perché dicevo che è importante conoscerli tutti e tre e soprattutto far sì che tutti e tre lavorino insieme. Ne abbiamo visti due, e ovviamente manca il terzo. Che abbiamo detto è il traffico che non controlli. Quindi, traffico che possiedi, traffico che controlli e traffico che non controlli. Ovviamente, come dice la parola stessa, il traffico che non controlli è un traffico che non puoi controllare. È una frase stupida, però è così. Cioè, non c'è una spiegazione. Il traffico che non controlli è un traffico che non sai da dove arriva. Può arrivare da diverse fonti, da tantissime fonti. Ovviamente dipende come lavori. Ad esempio, può arrivare da un tag su Facebook. Ad esempio, Tizio, Caio e Sempronio scrivono, girano un nuovo video. Io li filmo e metto su Facebook, dico, ecco, Tizio Caio e Sempronio ha le prese con il nuovo videocorso, diventa forte come pinco pallino. E sotto c'è un link. Io non so quante persone cliccheranno su quel link. Quindi, quello è un traffico che io non posso controllare. Perché viene da un'altra persona. È un terzo che si è messo in mezzo, ha fatto un tag, ho preso il tag come esempio. Sapete tutti che cos'è un tag? Non vi sento lì in fondo? Ok. Quindi io non so da dove arriva questo traffico. Non so chi sta cliccando. Non so quanto mi converte. Non so quante persone stanno vedendo quello che c'è all'interno di quel link. Un video virale fa la stessa cosa. Se io faccio un video e diventa virale, magari nella descrizione di quel video c'è un link. Io non so quante persone cliccano su quel link. Però mi crea del traffico che non posso controllare. Un articolo sul blog, un post sulla fanpage. Quindi tutte quelle azioni compiute su una fonte che non controlli e che porta del traffico al di fuori di quelle che sono i tuoi comandi e le tue decisioni. Quindi se io non ho dato l'input a quel traffico di trasformarsi, di compiere un'azione, quindi trasformarsi in traffico che io possiedo, quello è un traffico che io non controllo. Che non glielo ho dato io l'input per diventare, magari per fare una opt-in page, per entrare in una opt-in page. Andando ad analizzare insieme quelli che possono essere, perché giustamente adesso è giusto fare degli esempi per rendervi tutto ancora più chiaro, quelli che possono essere degli esempi di traffico che non si possono controllare. I social media, abbiamo già accennato, quindi Facebook, Instagram, LinkedIn, qualsiasi azione esterna di persone esterne che viene fatta su quello che può essere un link, insomma su dove io mando traffico di solito a pagamento viene compiuta da persone che sono esterne, quello è traffico che io non controllo. C'è traffico di ricerca, il SEO. Traffico su blog, quindi le persone che entrano su blog, sì per carità, sai magari c'è il counter di quante visite fai il tuo blog, però non sai precisamente quanto traffico io ho generato, perché non glielo stai mandando te. Magari una persona è su Google e dice come nuotare più velocemente, esce il mio blog e la persona va dentro, quindi quello è un traffico che io non... cioè non gli ho dato io l'input di andare all'interno di quel blog, quindi è un traffico che io non controllo. Sì. Sì, quello lì se ovviamente tu vuoi spingere la ricerca, se tu fai una ricerca normale non la fai a pagamento. YouTube, anche YouTube è un canale esterno, quindi anche di qui il traffico è un traffico che io non controllo, pubblico un video su YouTube, vedo le visualizzazioni, ma non so fondamentalmente quante persone magari hanno compiuto una determinata azione. e le interviste, quindi magari faccio un'intervista, quel magazine mi pubblica sulla sua fan page di Facebook, io non so quante per c'è, posso andare a guardare, ma non so quanto traffico mi può portare, perché è una cosa che io non controllo, perché non è mia, non l'ho pubblicata io. non sto pagando del traffico per mandare le persone sopra e per interagire. Però anche qui l'obiettivo è uno solo, convertire ogni singola persona che entra in contatto con il tuo content, quindi con il tuo contenuto, quello che scrivi, quello che pubblichi, quello che fai, e trasformarlo quindi in traffico che possiedi.